Amici di Mila.Soccer, buongiorno e benvenuti all'appuntamento dell'ora di pranzo. Dunque, come sempre, vi ricordo i nostri due appuntamenti. Il primo la mattina, tutte le mattine, 7 giorni su 7 alle ore 6.45. E poi ancora il pomeriggio, o meglio, all'ora di pranzo alle ore 13. Se attivate la campanellina, se cliccate la campanellina, potete rimanere aggiornati e quindi sempre puntuali. Vi ricordo dunque di iscrivervi al canale, qui sotto c'è scritto iscriviti, cliccate e diventerete gratuitamente parte del canale. Così come ancora sotto, ancora, ancora sotto, link in descrizione, un'applicazione favolosa che vi dà informazioni, attualità, vi tiene aggiornati sul calciomercato 24 ore su 24. Quindi un abbinamento, la milan.soccer e numero 10, l'applicazione in descrizione. Scaricate l'applicazione e iscrivetevi al canale. Allora, 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 arriviamo. La copertina l'avete vista? Stamattina abbiamo fatto quella sintesi rispetto alle nuove figure che entrano all'interno del management Milan e allo stesso tempo riemergono anche personaggi che già erano entrati sotto tono nel 2019 e poi come da programma, perché questo programma conosce una rincorsa non recente, veramente una rincorsa lunga e abbiamo fatto le nostre verifiche. Dunque, in particolare, per quanto riguarda il progetto Moneyball, che è il progetto evidentemente che fa riferimento all'algoritmo, i personaggi che entrano sono tutti personaggi che hanno queste competenze più di tipo statistico, ma attenzione anche che i personaggi riportano sempre al fondo Elliot e a Paul Singer. Quindi, qualche domanda potremmo anche farcela, è legittima. Siamo in democrazia, ci poniamo delle domande. Non diamo delle risposte, ma sicuramente ci poniamo delle domande. E allora abbiamo fatto altri approfondimenti per quanto riguarda proprio la questione relativa al vecchio progetto Rangnick. Ve lo ricordate? Quando prima che Maldini esplodesse nel 2020, oggettivamente c'era il progetto Rangnick, con questo modello innovativo che poi si è interrotto, perché Maldini ha voluto Pioli. Rangnick, noi abbiamo scritto proprio sulla copertina una frase che vi dovete segnare. Il Milan ha scelto il nuovo mister. Ma diamo le date di quando questo dovrebbe accadere. L'uomo che vedete, da giovane e in età più adulta, è proprio Ralf Rangnick. Ed è un allenatore, per chi non ha seguito le vicende del 2020, che il Milan aveva scelto proprio per una rivoluzione, di pensare il mondo del calcio, prima di Moneyball. Ma questa rivoluzione non è stata attuata, come detto, perché appunto è stata data fiducia a Stefano Pioli. Rangnick non è rimasto a guardare. Da una parte probabilmente il management ha detto dacci tempo perché Pioli e Maldini prima o poi crolleranno, invece abbiamo vinto uno scudetto, e poi invece Maldini è crollato. Ora crollerà anche Pioli e Rangnick è sempre stato lì, però nel frattempo ha lavorato. Dove ha lavorato? È stato il peggior allenatore nella storia del Manchester United, del post Ferguson. E poi, una volta che la sua esperienza al Manchester United è terminata malamente, è diventato commissario tecnico dell'Austria. Il suo obiettivo è portare l'Austria all'Europeo 2024. Attualmente ci sono i gironi di qualificazione, è nel girone F l'Austria, ed è prima in classifica, ma perché ha fatto un 4-1 a Azerbaijan e 2-1 all'Estonia. Ora deve incontrare il Belgio e la Svezia, sia in andata che in ritorno, e poi dovrà rincontrare al ritorno a Azerbaijan ed Estonia. Quindi probabilmente, probabilmente, andrà, ma probabilmente no, perché insomma passeranno due e quindi in questo caso staremo a vedere. Dunque, l'elastico o la forbice, come volete, del tempo a disposizione di Pioli per poter non essere di nuovo sostituito da Rangnick, è proprio questa, la qualificazione all'Europeo, o se l'Austria si qualifica, una volta nel 2024 che l'Europeo è terminato. Ci sono dei dati che ci confermano un po' di questa tendenza, al di là del management che era esattamente il management del progetto Rangnick, e sono due. Uno è l'acquisto di Arnautovic, è già un primo segnale, e mi risulta che questo Arnautovic in realtà non era voluto da Maldini nelle settimane scorse, quando anche noi abbiamo detto Maldini voleva portare Arnautovic del Bologna al Milan. No, era più che altro una volontà di altri dirigenti del Milan, e Arnautovic, lo sappiamo, è l'attaccante dell'Austria in questo caso, però il problema è che iniziano ad essere troppi gli infortuni che il giocatore, che in questo momento è infortunato, colleziona, quindi poi d'altro canto bisogna buttare anche la palla dentro, quindi con tutti questi infortuni il giocatore probabilmente, non essendo integro, non è interessante per il Milan. E adesso, in queste ore, sono venute fuori nuove indiscrezioni. uno è Arnautovic, uno è Samarzic, centrocampista dell'Udinese, serbo, che però, se vi andate a rivedere quando si parlava di Rangnick, uno degli obiettivi di quella gestione sarebbe stato proprio Samarzic, che poi ha giocato con l'Udinese e non è arrivato al Milan proprio perché non era arrivato Rangnick. Attenzione, quindi, sono sì degli elementi, in alcuni casi come questo, probabilmente un po' forzati, ma il resto non è forzato affatto. Non è forzato affatto, perché Rangnick, che secondo me non è un allenatore tradizionale, diciamo, o tradizionalista, usate il termine che volete, è un allenatore che ben si presta ad un progetto non classico come quello di qualsiasi allenatore vi possa citare, Pioli, o più moderno De Zerbi, o ancora Conte, o ancora Spalletti, è un calcio secondo questa proprietà del Milan e questa dirigente, è un calcio vecchio. Ecco perché si vuole una società che si autosostenga e si autoalimenti, quindi scordiamoci i nomi importanti in questo calciomercato, ma al contempo che sia figlia di quel modello che abbiamo già più volte ribadito essere Moneyball, tanto è vero che noi abbiamo nel nostro entourage come soggetto consulente, terzo esterno, ma presente, proprio Billy Bean. Billy Bean è l'inventore del modello Moneyball. Io vi invito, ve lo dico ancora, a guardare il film, il film ambientato, o meglio, il film che racconta la vita di Billy Bean e l'idea di Moneyball, perché guardate il film e vedete quello che succede al Milan. Esatto, guardate il film, togliete Johnny Depp, ci mettete, che posso dire, ci mettete un altro personaggio, mettete Furlani, mettete Moncata, è quello che succede al Milan. quindi anche gli acquisti che si fanno sono, diciamo, su quel modello alquanto preoccupanti, tant'è vero che ad oggi, ad oggi, noi non abbiamo preso nessuno, perché è vero che il modello Moneyball è un modello ottimizzante per la società che acquista, ma è un modello che prevede giocatori che non hanno un grande mercato, per cui quelli che hanno un grande mercato ti dicono sì, bello Moneyball, bello il film, ma io voglio tanti soldi, quindi staremo a vedere. Dunque, in questa nostra pausa pranzo, ecco che vi diamo questa informazione. Attenzione alla sostituzione del mister Pioli, che, salvo salvo come è accaduto primo posto in campionato, Scudetto, Champions League, bla bla bla, avrà già ha già il suo sostituto e dunque tutto ciò che doveva accadere nel 2020 si concretizzerà tra il 2023 e il 2024. È tutto per oggi, andiamo con altri aggiornamenti, mi raccomando mettete mi piace a questo video e iscrivetevi al canale perché ci sto portando veramente via tanto tempo ma telefonate, informazioni, insomma, grazie, un bacio, ciao!